E' stata fatale la sconfitta di Ravenna di domenica scorsa, è stata la quinta di fila in otto gare che ha portato l'alma Juventus-Fano in fondo alla classifica. Per questo la società si era presa una pausa di riflessione dopo la partita e a distanza di 24 ore era arrivata la decisione tramite una nota stampa, esonerati mister Marco Alessandrini e suo allenatore in seconda Sergio Spuri. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata all'allenatore Favio Destro e al tecnico in seconda Vincenzo Rodia. Il nuovo allenatore è stato presentato oggi durante una conferenza trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società. Sono contento ed entusiasta di questa nuova avventura, detto Destro, piemontese di Rivoli e mascolano d'adozione. Quando c'è un esonero c'è sempre un po' di tristezza ma questo è il nostro lavoro. La squadra ha proseguito, ha fatto vedere un buon calcio in quasi tutte le partite giocate. Ha solo bisogno di più autostima. I ragazzi devono essere consapevoli della loro forza, di quello che hanno fatto e devono cercare di migliorarsi dal punto di vista mentale. Devono essere determinati. Io amo il mio mestiere, amo il calcio. C'è stata la possibilità di poter allenare questa squadra, questa società, una tra le più importanti. Non ci ho pensato due volte. Sono venuto con grande entusiasmo, con grande determinazione, con grande rabbia che intendo anche trasferire un po' a tutti i giocatori perché la classifica è brutta e lo sappiamo tutti. Quindi dobbiamo subito cercare di invertire la tendenza. Conosce bene la categoria i giocatori, ha detto Traini, responsabile dell'area tecnica. Siamo certi che possa essere la soluzione giusta per tornare alla vittoria e uscire da questa situazione. Negli ultimi anni, ha poi aggiunto il direttore generale Bernardini, mister Destro è stato uno degli allenatori che nel territorio nazionale ha fatto meglio di tutti. Stimiamo l'uomo, stimiamo la persona e soprattutto cercavamo in condivisione con il presidente e con il direttore sportivo una persona con grande personalità che potesse aumentare e riaumentare l'autostima dei ragazzi per dargli grossa motivazione e grossa determinazione per affrontare le partite.